Quando mi presentarono un copione, innanzitutto il film si chiamava l'Onorevole Piace alle donne, si chiamava così in un primo momento, ed era un po' diverso, era sempre una satira tremenda politica sull'esercito, sui carabinieri, sulla polizia, sul Vaticano, una cosa proprio, tant'è vero è rimasto nel film il cardinale che mentre prega a Dio disteso davanti all'altare s'arrabbia perché lo disturbano e dice Cristo, e sbatte la mano, il pugno sul pavimento, era una cosa che non si era mai vista. Se perché Pompis abbia fatto degli atti impuri alla televisione è che la cosa abbia creato uno scandalo gravissimo. Cristo! Stavo girando detenuto in attesa di giudizio, l'organizzatore era Renato Iabboni, molto amico di Lucio Fulci e quindi fece il mio nome a Lucio Fulci e alla produzione che era la fida cinematografica mi pare e naturalmente da lì è partito diciamo l'ingaggio, il rapporto tra me e il film, tra me e Fulci e ricordo anche che dovete lasciare due o tre giorni prima detenuto in attesa di giudizio perché loro mi avevano aspettato circa una settimana perché dovevano iniziare prima, però aspettarono che io finissi detenuto e quindi fui contattato in questa maniera. Lucio mi ha chiamato perché voleva fare questo film dove da un punto di vista trucco c'era il cercare di rappresentare Lando Bozzanca come un onorevole democristiano e allora mi ha chiamato, ho letto il copione, mi divertiva e ho accettato, diciamo, abbiamo fatto il primo provino. Il film dopo si chiamò e si cambiò la trama perché io avevo un contratto con un produttore che voleva farlo e poi per una cretinata assurda, adesso non mi ricordo manco più come si chiamava, sto perché sarà morta adesso credo, sì penso di sì proprio, si parla di 35 anni fa, era già anziano e malato all'epoca, per una cretinata perché sul contratto c'era scritto che io avevo diritto ad una macchina personale perché mi venisse a prendere e portare dal set a casa e dalla casa al set, non si era rifiutato di darmela, ma cosa da pazzo, ma come tutti, è sempre stato così e poi gli hanno sempre data, chissà per quale motivo, forse si era sentito, ma a me è servito questo per guadagnare un po' di più, perché poi il contratto con l'altro produttore che era della Fida si chiamava, oh Dio mio, produttore della Fida. Di mondo amati, è amato, amati, è di mondo, è di mondo amati, mi sono fatto dare un po' di più, io gli ho detto mi devi dare un po' di più perché quel contratto là gli avevo fatto per, gliel'avevo regalato perché mi faceva pena il produttore. La Fida? Ma senti, io non dovrei dire forse perché non è stata, c'è una troupe, io non ho un piacevole ricordo per quanto riguarda l'atmosfera, ma anche produzionale insomma, però anche produzionale, non c'era quella sensazione che uno dovrebbe avere andando a lavorare, di piacere, del piacere di andarci a lavorare. Con Amati, con Edmondo ci eravamo incontrati prima perché io avevo fatto una parodia di James Bond, anzi due, voleva fare la terza parodia di James Bond prima, cinque anni prima, quattro anni prima, cinque, quattro, cinque anni prima e mi ricordo che mi aveva buttato davanti il blocchetto degli assegni e dice mettici la cifra che io firmo e io non l'ho voluto fare un'altra parodia perché io volevo fare i miei figli, non volevo fare le parodie. Per cui questo era l'antefatto diciamo. Io ero truccato come Colombo che era un ministro all'epoca. Questo Colombo, io intervengo sempre anche con i pensieri nel discorso, dopo 25 anni, quasi 30 anni, praticamente sette anni fa, l'ho incontrato a Ischia, Colombo, il quale non mi aveva subito, aveva salutato tanta gente, aveva salutato pure me ma senza farci caso. Allora gli ho detto, ma sai che c'è Buzzanca? Dove? Dove? Mi ricordo, mi ha appena salutato onorevole. Ah Buzzanca, non mi aveva guardato, salutava. Ah Buzzanca, noi abbiamo un problema in comune. Ha detto, onorevole, eravamo ragazzi. Indubbiamente Lando era il ministro Colombo, cioè proprio truccato, e non credo che fosse stata un'idea o un'iniziativa del truccatore, che era mi pare Giannetto De Rossi. Indubbiamente era Fulci che voleva che somigliasse a quel ministro. Lo scopo era cercare di identificare Buzzanca e farlo diciamo abbastanza simile a un onorevole democristiano e se uno lo vede capisce anche chi è. Ma voglio dire, non è che ci fosse stato chissà che mira nel farlo simile a questo personaggio. Come avviene molto spesso in cinema, e secondo me avviene anche quando i pittori fanno un quadro, i critici poi interpretano tutto a modo loro. Lui ha voluto fare quel personaggio perché gli sembrava giusto come rappresentazione di una tipologia di personaggi politici dell'epoca, cioè lo identificava molto bene. Il film era stato bloccato, c'è stato un tentativo di comprarlo da parte della democrazia cristiana, credo, del governo, ma credo fosse dalla democrazia cristiana, che pagavano quanto era costato il film. Il produttore naturalmente pensava di farci molto di più con l'edizione del film, con la promozione, il film portato nelle sale aveva guadagnato di più, pensava. Io credo che abbia fatto molto. Quasi un miliardomento. Poi c'era questo screzio, chiamiamolo se non astio, questa concorrenza tra i carabinieri, no, e anche, cioè si capiva insomma chiaramente, però va bene, anzi, che ben vengano questi film, perché chiariscono anche, anche se attraverso una comicità, ma chiariscono un senso di verità, forse. Si è sempre pensato e si seguite a pensare che tra i poteri oscuri, diciamo, vedi mafia, vedi altre cose, prima era anche il terrorismo, eccetera, eccetera, no, e se ci fossero agganci col mondo industriale e politico, probabilmente ci sono, ci saranno, ci sono sempre stati in tutto il mondo, adesso non voglio dire solo in Italia, ovviamente, no? E il film magari può lanciare dei messaggetti, ma voglio dire, diciamo che i messaggi sono un di più, in quanto quando si fa un film, secondo che tipo di film è, se è un horror si cerca di impressionare la gente, se è una commedia si cerca di far ridere, con un po' di ironia, e quindi ironia, quindi uno mette i messaggini, no? Ma non c'era nessun lato scuro nel film. È un film, secondo me, che oggi se dovesse uscire, o riuscire, incasserebbe, perché è un film dove c'è una forma, c'è un contenuto, c'è una prestazione collettiva di tutto lo staff tecnico e artistico di primo ordine. La situazione politica dell'epoca è quasi uguale a quella da adesso, vuol dire, diciamo, noi in Italia abbiamo sempre avuto una cosa, no? Si votava in una certa direzione perché i comunisti mangiavano i bambini e rubavano le case a chi ce le aveva. Questo è un po' rimasto, no? Solamente prima c'era un certo partito, che poteva essere la democrazia cristiana, che se vogliamo ha fatto del bene da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista non è che ci ha portato alla grandea, come dicono i francesi. Adesso abbiamo Berlusconi che fa uguale, quindi non è che è cambiato molto. Non ci sono, anzi, digli che non gli voglio parlare. Va bene, va bene, eccellenza. Poi siamo partiti col film. Ora io devo dire, il film ci ha dato addio, una cosa che mi aveva stupito di Fulci, che io non conoscevo, ripeto, era che facevo una battuta o una battuta e mezzo o due battute e stoppava, faceva l'altro, poi tornava. E io a un certo punto ho detto, ma fammi fare una scena completa. Anche perché io ero abituato alle scene complete e mi piaceva l'idea di poter raccontare una scena completa e poi fare i dettagli, quello che si fa adesso, per esempio, anche per risparmiare tempo. E lui mi ha accontentato. Per cui io ero più contento, perché mi sentivo più attore. Perché come facevo io, come mi aveva fatto fare all'inizio, poteva essere un generico qualunque a farlo. Diceva pa 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 pa. Mi sentivo senza emozione e senza motivazione. Lucio, in quel periodo, aveva un'ottima reputazione, perché mi pare fosse reduce da La donna dalla pelle di Lucertola, mi pare un titolo del film con Florinda Bolca. E poi fece... Insomma, era ben considerato, perché lui veniva, è vero, da film, chiamiamoli di serie B, ma secondo me sono tutti di serie A. Ma la reputazione di Fulci in quel momento, o se vuoi, non era ancora al vertice, no? Diciamo che è stato rivalutato dopo Fulci, come avviene purtroppo spesso in Italia. Era un uomo di grande cultura, pensa. Era un uomo di grande cultura, di grande intelligenza. E questo, io un uomo quello cerco, in un uomo, in una persona. Una persona per rispettarla, il fatto culturale, l'intelligenza e la professionalità. E allora per me, puoi anche essere poi un buffone, che mi frega. Però è perciò che lo stimavo, gli volevo bene. A me divertiva molto, devo dire. Come regista, lui sul set era un personaggio molto adrenalinico, parolacciato nel senso buono, divertente, spiritoso, come i romani e i toscani fanno di solito. Essendo un grosso professionista, quando trovavo qualche dilettante, mascherato dal professionista, è chiaro, diventava una bestia. Strillava come un matto. Però subito dopo lo dimenticava. A me piaceva molto. Forse sarò viziato da una simpatia che ho sempre avuto. Italiani, nel momento in cui mi accingo ad assumere l'altissimo mandato, cui sono stato chiamato dalla fiducia del Parlamento. Lando era un professionista serio, educato. Io con lui poi ho girato altri due film e quindi c'era un rapporto piacevole. Arlando Buzanca è stato sempre, diciamo così, che posso dire, una persona abbastanza normale. In fondo era felice di quello che gli stava succedendo e contrariamente a tanti personaggi che poi si montano la testa. Lui era rimasto una persona molto semplice, quindi molto carino, molto simpatico, spiritoso e rispettoso della gente che aveva intorno. Santa Rosalia, Santa Agata, Santa Catarina di Villahermosa, San Vito, Orofronovi, Bardolino, imprecando sto. Lionel Stender è stupendo perché Lionel Stender era un grandissimo attore, secondo me, con una componente italica, cioè essere sanguigno, essere molto espressivo e poi era un uomo che amava la vita, quindi perfetto per Fulci. Era un cacciarone, era uno molto esuberante, quello che si vede poi sullo schermo, insomma. Standa niente, non c'è un rapporto con lui, lui era molto isolato, sempre per i fatti suoi, aveva sposato una ragazzina, e lui aveva già, diciamo, 60 anni, 55, 60, secondo me 60 erano, e si era sposato una ragazza di 25 anni, 40 anni più giovane. Ah, ecco, una cosa che mi, che, un po' mi dava da pensare, sul suo professionismo, Lionel aveva fretta di finire, giriamo, giriamo, voleva per finire, per andarsene, ma forse era la vicinanza di questa ragazzina che gli metteva premura, prescia, dicevano gli antichi, prescia. Sei tu, non ti trovavo, vieni accanto a me, satanuccia mia, satanuccia mia. In primis, per il personaggio del cardinale, a posto di Stander, era stato interpellato Gasman, e mi sembra che Vittorio, se ricordo bene, Vittorio, abbia risposto, no, perché il film, gli è sembrato volgare, mi sembra volgare. per cui mi aveva detto, dico, ma come Gamma, non ce l'abbiamo? No, porco Giuda, fagli una telefonata tu, dico, ma se l'ha detto di no, vuol dire che è inutile che sto là a pressare, comunque, io provo, provo, e mi dicono che lui non era già a Roma, era già partito, era andato a Cortina, aveva una casa a Cortina, lui, era andato, io lo chiamo a Cortina, mi risponde lui, dico, Vittorio, scusami se ti disturbo, sono andato buzzanca, ci dimmi, ce lo immagino, perché mi chiami, dico, scusami, io non c'entro niente, ma sai com'è, tu sei su tutto Lando, so benissimo, so che tu hai rifiutato, ma mi hanno detto provaci tu, io ci sto provando, sono sicuro che tu mi direi di no, sì Lando, perché, dico, sai che l'hai trovato volgare, non so se è veramente volgare, mi ha detto, non so, ma c'è qualcosa, e non l'ha fatto, voglio sottolineare però, che dopo, in un momento dopo, quando non, non si facevano più tutti quei film, c'era una storia per due personaggi, che era molto più volgare, ma molto più volgare, del, ma l'onorevole piacciono le donne, molto più volgare, e lui aveva letto, io avevo letto il copione, e ho detto, io sta cazzata, non la faccio, lui aveva letto il copione, e ha detto, quale dei due devo fare, per cui, è tutto relativo, Eminenza, 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 mutande di femmina, nivore puro, con i fiocchi rossi. Corrado Gaipa, per esempio, era un ottimo attore, un'ottima persona, molto per bene, educato. C'era Gaipa, con lui mi sono molto divertito, anche perché gli ho chiesto, gli chiedevo perché era zoppo, perché lei si era sparato, per una donna, tutte queste cose, dico, ma è mai possibile, ma conviene ammazzarsi, spararsi, però no, non conviene, ma lascia perdere, infatti, io ho avuto molti esempi da sta gente, che ha provato prima, loro hanno provato, queste persone hanno provato sulla loro pelle, che significa reagire per uno scontento d'amore, e allora io mi sono sempre tenuto fuori da tutte queste cose, cioè tu devi imparare da tutti, da tutti quelli che ti circondano, per proteggerti, ti serve anche per proteggerti. Non sono responsabile della mia volontà? Ja, forse tu non completamente colpevole, perché tu malato, tanto malato, poveretto, e quando preso da raptus, tu non capirai, ma realtà tremenda, tu hai permesso me in grosso quaio, tu hai teso aiutare me? Io, Laura Antonelli, il suo primo film, ce l'ho fatto io, era un film che andammo in Spagna a girare, che si chiamava Le Malizie di Venere, ed era la prima volta che lei lavorava con una produzione italiana, un ricordo piacevolissimo, lei era bellissima, giovane, moderna, senza complessi, e quindi quando l'ho ritrovata sull'onorivo Le Piacciono le Donne, sono stato molto contento, perché lei cominciava, anche lei, ad andare avanti nella sua professione di attrice, e cominciava a diventare importante, ed era una ragazza piacevole, ma non solo fisicamente, proprio di testa, insomma, di pensieri, un ottimo ricordo di Laura. avevo già fatto il merlo maschio, qui c'era con me la, che nel merlo maschio c'era Antonelli con me, e l'Antonelli mi aveva seguito, dico, vieni a farmi sta cosa, e lì c'era stato un episodio un po' grottesco, erotico grottesco, perché a un certo punto, se giravamo la scena in cui, lei, la monaca, sta facendo l'amore con me, nuda, e gli è rimasta solo la cuffietta in faccia, sembra che, lei non voleva più girare, no Lando, io non giro più, perché sembra che Lucio l'abbia toccata nel sedere, ora che Lucio l'abbia potuta toccare nel sedere, potrebbe anche essere, ma non perché, chiunque l'avrebbe toccata, io ero obbligato, ero, avevo il password per toccarla, dal momento che facevamo la scena assieme, ma gli altri non avevano il passaporto, e allora, però, l'avrei toccata pure io, se non avessi avuto il passaporto, per cui può essere che sia vero, ma se no lei non avrebbe avuto, no, era arrabbiata molto, molto, non voleva più girare, l'ho calmata io, avevo un certo, una certa voce in capitolo su di lei, in quel periodo io. Ma lui, Lucio ebbe uno screzio, diciamo con Laura, una volta, non molto a favore suo, perché Laura doveva, nella scena, tirare fuori il seno, scoprirlo, e lui, si rivolse a lei, in un modo, che a una donna, non fa piacere, sentirsi dire davanti a tutti, e disse proprio, in un modo, forse, prosaico, tira fuori le zinne, non so, ecco, questa cosa, naturalmente, non fece piacere a Laura, perché, anche noi, stavamo là, tutti davanti, non era simpatico, no? E lei reagì duramente, in un primo momento, disse, no, io non lo faccio, e ricordo che venne vicino a me, perché io avevo girato le malizie di Venere, dove lei, se io dicevo, si vedono forse le mutandine, se le toglieva, quindi, senza complessi, ecco, ma essere stata trattata e apostrofata in quella maniera, insomma, poi lo fece, naturalmente, perché faceva parte della scena, insomma, ecco, Lucio, a volte, con gli attori, aveva questo modo di essere, che non faceva tanto piacere a loro, ecco, ecco, forse quella era una delle cose che poi alla fine hanno, è sfociata e lei non voleva più girare, ma il fatto è che lei non voleva girare perché gli ha toccato il culo, sì, ma lui aveva un linguaggio così, l'adoperava questo modo di parlare, lo usava, non era, non era molto elegante Lucio, non era molto elegante. Beh, l'Antonelli era l'Antonelli, diciamo, no? E in quel momento, lei era in voga, e quindi stava un pochino sempre sulle sue, ma direi più che era un problema, credo, di introversione, più che una cosa che facesse apposta, diciamo. E poi c'erano un sacco di attori di teatro, Parmigiani, Parmigiani, c'era... C'era Renzo Palmer. E Renzo, Renzo Palmer, straordinario attore, straordinario, e con lui mi trovavo da padre eterno, io, con le scene con lui sono forse le più belle, quelle mie, perché sono proprio, sentivo l'attore. Renzo Palmer è un grosso professionista, simpatico, persona seria, spiritoso. Poi c'era anche un debutto, la... che faceva una suorina, che io, la suorina che io, che io metto la mano sul sedere, tutta la notte, sta ferma, dicendo giaculatorie, la... Agostina Belli. Agostina Belli. C'era Agostina Belli, che dopo fece con me la Calandria, la mia partner nella Calandria. Poi abbiamo fatto anche una cosa in televisione assieme, sì, si chiamava Vanità. Ma come? Io mi sto battendo dopo l'abolizione del celibato ecclesiastico e tu vorresti istituire il celibato politico? Ah, c'è proprio ragione, fio mio, tu sei malato. Forse, ma guarirò. È questione di volontà. Ma quale volontà, Giaci? A te ti serve un medico, uno specialista. Ma che stai dicendo? Sei pazzo? È stato divertente innanzitutto fare buzzanca, che aveva la calotta, aveva la parrucca, per cercare appunto di farlo somigliare. Non è facile mettere una parrucca in cinema, perché si vede sempre. Io sfido chiunque a vedere la parrucca. Non si vede, non c'è l'attaccatura. Sembro io, sembrano i miei capelli. E avevo la parrucca per la prima volta, solo una volta, io ho messo la parrucca proprio in quel film. Non l'ho mai messa anche perché non mi è mai piaciuto truccarmi. Poi, essendoci un rapporto con Fulci particolare, io mi sono divertito a fare più con trucco tutta la scena del sogno, che è un'idea mia, anche come, diciamo, immagine, in quanto ho portato un disegno a Lucio, che era questo tronco, con queste donne tutte intrecciate, e gli ho detto, io farei così, la scena del sogno la farei così. Ha bell'idea, l'albero con le mele che poi diventano dei sederi, no? E quindi, il divertente è stato appunto fare questo perché ho fatto la scultura di tutto il tronco, il calco, poi il divertente era come si potevano fare delle mele così grosse senza fare i calchi e spendere tanti soldi e devo dire l'idea, siccome io mi sono appoggiato per fare questa scultura al laboratorio di Rocchetti Carboni dell'epoca, c'era Goffredo Rocchetti che è stato un grandissimo toccatore italiano che gli ha venuto l'idea a lui e dentro dei palloncini che cosa ha fatto? Ha attaccato sul fondo di un palloncino un filo che usciva dal beccuccio del palloncino, si gonfiava il palloncino, poi si tirava il filo il dietro rientrava e sembrava una mela quindi perfetto tutte queste poi ovviamente per i sedeli abbiamo fatti i calchi e li abbiamo fatti in poliuretano espanso dovevano scoppiare tutti man mano li toccavo ma c'erano quelli che non volevano scoppiare io cercavo di farli scoppiare con le unghie le cose ma erano talmente duri che non sì ma era una di quelle scene avevano un significato preciso onirico erotico onirico giusto a me perché era un sogno non mi piaceva molto quella scena poi mi sembrava anche lunga lunga era poteva essere più più sintetizzata non lo so là c'era forse qualcosa o forse non c'era stata una una realizzazione di questi frutti che erano sedeli poi belli cioè veramente affascinanti poi che magari è arrivato a casa e no era era cosa per farli scoppiare c'era qualcosa sbagliato anche da parte mia anche da parte mia per farli scoppiare io non ero più ero uno che cercava di farli scoppiare non ero più quello che stava sognando i sederi sì avevo la faccia perché la faccia era quella è come quando tu intervisti un personaggio che ha dei problemi tu stai zitto per me dica dica e la svele disturbata no ti prego stai zitto sto facendo sta cosa prego ma non vi vuoi stare zitta fammi lavorare e fai la faccia d'occasione perché non puoi fare la faccia arrabbiata perché sei personaggio che viene intervistato ora là io avevo questo atteggiamento ma non c'era non c'era la gioia del sogno perché non c'era la gioia di farlo questo ricordo per esempio la scena dove lui cammina in questa pista che poteva essere paragonabile a una pista di decollo no atterraggio di aerei con tutte lampade a terra dove c'era dietro un fondale perché è una scena grossa un fondale che prendeva mezzo teatro della De Paulis e quindi molto da illuminare illuminare il fondale in più Lucio doveva andare a rallenti girare a più fotogrammi per dare un senso di rallenti alla scena e quindi portava a dover aumentare la luce per dare la giusta esposizione io ebi ma non per presunzione un'idea credo coraggiosa mettere la calza davanti alla macchina ma non per la calza perché lo si faceva normalmente ma illuminare la calza con una lampada quindi dare un senso di alone che poteva essere pericoloso perché all'epoca non esisteva il combo in teatro dove più o meno ti facevi un'idea dovevi aspettare la proiezione per poter dire è andata bene e quello ricordo questo piacevolmente insomma ecco come come una forma di coraggio da parte mia questo e poi il risultato fu ottimale fu ottimale ricordo che il lucio mi rimase molto contento disse vedi certe cose che si fanno senza pensarci tanto senza provinare cose vengono meglio di tutto ecco questo mi ricordo questo ma c'era la troupe la troupe era non ci sono più le truppe di allora prima si portavano appesso cavi enormi si portavano sulle spalle i bruti che erano dei proiettori di luce enormi spirito ce n'era uno ecco uno che lo chiamavano campanella che aveva un po' il momento allatato un po' aspetto che era un po' così e me lo ricordo in una scena che eravamo in esterni stava su un trapannello lui con sto coso con sto enorme proiettore stava là mi pare che il capo elettricista a un certo punto era pronto allora sei pronto per girare sei pronto campanè e lui ha detto din don da gli ha risposto din don da per dire l'umorismo era già nelle troupe un attore comico oltre a cercare dentro se stesso stava sempre a sentire i tecnici che forse erano molto più buffi dell'attore l'attore si esibiva le diceva le cose ma lo spirito umoristico degli uomini dei lavoratori era molto più diretto innanzitutto forse non più colto ma comunque fa cultura una cosa che arriva prima comunque l'altra cosa divertente era perché come al solito c'è sempre penuria di danaro c'era quindi quando c'erano tutti i morti tipo stato di cera io per guadagnare tempo ho messo solo gli occhi finti agli attori veri così mi sono salvato è stato divertente anche fare il bastone di Gaiva vuole dire che c'entra un truccatore che fa gli effetti fa il trucco normale poi fa una scena poi fa un bastone no? e potrebbe non avere senso nella cinematografia moderna ma la nostra era una cinematografia meravigliosa dove tutti portavano qualcosa e si cercava di collaborare in tutto poi si serve un regista intelligente come Fulci che riusciva a filtrare le cose buone da quelle meno buone e poi lui prendeva era un periodo poi eravamo tutti ragazzi era un periodo stupendo per il cinema perché si facevano si facevano 280 film l'anno 260 e poi si facevano i film miei io firmavo un contratto e nasceva una troupe e io facevo 3-4 film l'anno e si facevano 4 troupe l'anno perché io mettevo una firma se non mettevo la firma non nasceva la troupe cioè non è che scrivevano i film e mi ridavano scrivevano su di me per questo era un momento magico anche per me per chiunque è responsabile di una cosa in tutto dal dal momento dell'idea fino alla creazione e il cinema era questo per me in quel periodo come ho fatto il bastone di Gaiva quando batte al portone alla luce ha fatto cercare in tutta Italia il pomo del bastone che fosse la testa di Garibaldi non l'hanno trovato e lui si era impuntato disperato ma come mi rovinate tutto mi voglio proprio far vedere questa cosa hai detto Lucio te lo faccio io ma lo puoi fare dico sì non ti preoccupare speriamo che vi è bene perché mancano due giorni io non ho tempo di fare prove allora comunque sono fatto dare il bastone ho fatto la forma con la creta della testa di Garibaldi e ho preso il calco direttamente sul bastone poi ho ovviamente ho levato il calco ho levato la creta e ho versato dentro la resina che usano i dentisti per fare i denti che sembra ho scelto il colore dell'avorio e l'ho colata ci ho inserito prima che asciugasse una vite e poi il giorno della lavorazione questo se vuoi anche per così un attimo di scena ho voluto fare nei quali mi pento perché non si fanno queste cose sono andati in scena col bastone avvitato con tutto il gesso sopra e dico Lucio ecco il bastone e adesso e dico dentro forse c'è la testa di Garibaldi se non ho bolletaria o cose strane c'è la testa di Garibaldi allora gliel'ho rotto davanti perché la resina dei denti è durissima gliel'ho rotto tutto il gesto e è uscito fuori Garibaldi l'ho pulito con la china l'ho invecchiato un pochino e devo dire è stato divertentissimo abbiamo messo una fascetta intorno e mi ricordo che il povero Gaiva stupendo attore meravigliosa persona alla fine se l'è portato a casa che lui andava sempre in giro con i bastoni e ha chiesto alla produzione se glielo regalavano e per me è stata una grossa gioia poi esce il film un casino alla prima l'era di Dio di Cine giornali che parlavano di sto film insomma è uscito purtroppo avrebbe fatto ancora di più se fosse uscito quando dove è uscito con due mesi di ritardo un mese e mezzo di ritardo forse due mesi per cui è uscito quasi fuori stagione è uscito fino aprile tutti i giornali parlavano tutte le cose e i critici mi ricordo i critici scrivevano Guzanka dimostra anche delle dimostra anche praticamente che sapevo anche fare delle imitazioni ma non è era facile fare l'imitazione di Colombo un paio di occhiali stempiato con i capelli ero quello non ero altri ma devo dire una cosa io mentre ho apprezzato molto tutta la prima parte del film la seconda parte non mi piaceva secondo me c'è stato un intervento nella seconda parte c'è stato un intervento della produzione volevano una cosa più divertente più cioè forse non hanno capito fine in fondo l'importanza di una satira vera come tutta la prima parte tutta la prima parte è una satira pura precisa intelligente e coraggiosa è coraggiosa dove ci sono i servizi segreti che spiano i servizi segreti della polizia i servizi segreti della polizia e quelli dei carabinieri spiano i servizi segreti dell'esercito esercito polizia e carabinieri il Vaticano l'esercito del Vaticano e poi con un dialogo con dei dialoghi straordinari oggi forse in mezzo a questo trash che vediamo spesso indubbiamente diventerebbe un film di qualità era una commedia però diciamo le commedie potevano permettersi di fare un po' di ironia sul cittadino se vuoi quando coinvolgevano altre cose diciamo si perdeva il senso dell'umorismo e quindi si entrava in polemica eh beh ero là io tutti tutti addosso li avevo ma ha danneggiato anche un po' questo mi hanno danneggiato quei giornalisti di un certo mondo perché là quella era un tipo di democrazia che era molto a sinistra era il compromesso storico e la sinistra mi ha dato molto addosso devo dire adesso forse ho superato tutto questo spero almeno ma mi ha dato molto addosso non mi ha fatto dormire sogni tranquilli io ho dormito lo stesso sogni tranquilli un altro non avrebbe fatto sogni tranquilli io dormivo lo stesso perché amo il mio mestiere me lo faccio sempre con molta con molto molto professionismo dedicandomici però mi hanno dato addosso parecchio fiumi di luce nell'aria si incontrano con una notte che va nuvole bianche leggere camminano lasciano questa città dormi serena al mio fianco stringendomi che tenerezza mi fai dormi serena finché puoi sarai la dolce amica mia negli angoli di sole di tanti giorni nuovi per noi due noi due noi due diciamo che la dolce di tanti di tanti Grazie a tutti